Buongiorno giovani, domenica, come ogni domenica per il motociclista, il ciclista, chi è apposato di Vespa significa raduni, incontri, giri, per un po' la tristezza, diciamo così, delle fidanzate, delle mogli, che aspettano magari domenica per approfittare di stare più col compagno e invece il compagno se ne va in giro. E oggi incontrò il Vespa Club Rossano per un bel giretto di tre ore, però prima come ogni cosa si va. Come ogni meeting c'è sempre un punto di ritrovo e soprattutto un orario che non viene quasi mai aspettato. Essendo sempre fuori per giri o per presentazione di libri, mi sono trovato non più di dieci volte a girare con tanti Vespisti. Oggi io con la Vespa 50 sono il più lento oggi, quindi dovranno aspettarmi o dovranno andare avanti e poi fermarsi, quindi questa è la situazione. Però è bello condividere, fermarsi, prendersi un caffè insieme. Questa cosa l'ho fatta davvero poche volte. Allora, vediamo cosa serve. Mi porto la mascherina, perché ancora c'è questo obbligo, una bottiglia d'acqua. Porta un portachiave del Vespa che è Blussemburgo, di cui ho anche la maglia. Taderno, portafondi. Devo fare benzina come al solito. E poi riparto. Non sono mai rimasto a piedi con la Vespa nel giro, mai. Nel giro d'Italia, nel giro d'Europa. L'altro giorno faccio due chilometri, rimango a piedi. L'ho dovuto spingere. Io intanto vado, che è di sta 20 chilometri. E con la mia Vespa 50 ci vuole almeno mezz'ora. Buongiorno. Sono abbastanza in orario, siamo arrivati a precisare le 9 e un quarto. Verso le 10 dovevo essere a Corigliano, che dista 10 chilometri. Oggi andiamo ad un incontro con il motoclub di Corigliano. Dove esserci l'oro ad uno, ma è stato annullato, come sono stati annullati tutti. Almeno fino a settembre. E poi, spero ci incontriamo lì per una piccola passeggiata. Questo è al volo. Una parola che significa Vespa, Vespa Club. Che significa? Se devi racchiudere una parte racchiudere. Il Vespa Club significa tante cose. Però all'interno del Vespa Club c'è una sottovoce che si chiama Vespista. Quindi il Vespista è colui che usa la Vespa, ma la usa in una comunità di persone. Il Vespa Club è che comunque racchiude il Vespista. E tu sei un Vespista. Sono un Vespa Club. Sono un Vespa Club Vespista. Poi, ponete sotto il video cosa rappresenta per voi Vespa Club una parola, anche una frase. Amicizia, allegria, o quale che volete. Scrivetelo nei commenti. Sveglia e caffè, barba e pide. Presto che perdo il tram. Se il cartellino non timbrerò. FANTOZZI! No! Crocefissi in sala me, in sala no, mi vergogno! Si è unito... No, noi ci siamo uniti al motoclub di Corigliano. Stiamo blozzando tutto Corigliano. Sì, direttore, con te ingegner, sì... Cosa ci darà qui? E adesso prendiamo un pasticcino. In tre mesi l'aria non è stata mai così buona. Adesso la stiamo inquidando in un'ora. Siamo giuti al castello di Corigliano. Avrò fatto la cosa al contrario. Prima ci siamo mangiati i pasticcini. Adesso c'è l'apertivo con pizza. Però qui si mangia sempre. Quando si gira in moto, si mangia sempre. Signor fotografo, ci prendi? Allora, la prima fila in giro, che leggo! Forza! Allora, adesso dobbiamo ritornare. Il nostro giro con la Vespa è finito qui. Perché quelli del motoclub vanno a mangiare. Sono abbastanza in ritaglio. Devo andare a mangiare a luna e devo fare 35 km. Quasi l'una. Quindi, se vi è piaciuto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale, di condividere e di mettere mi piace. Alla prossima, giovani! Alla prossima, giovani! Alla prossima, giovani! Alla prossima, giovani!